Quest'anno sarà un'edizione strepitosa perché c'è un importante giro di boa per Disco Diva. Dopo sette anni, e questa è la dimostrazione anche che crediamo di aver lavorato bene nel territorio, a livello soprattutto internazionale di intrattenimento, abbiamo l'onore di avere come main sponsor la Maison Gucci e anche Mini, quindi un brand legato sicuramente agli anni 70, quindi questo ci permetterà di crescere sempre di più ma soprattutto anche di fare conoscere ai giovani, quindi non solo chi è legato al mondo della disco music perché l'ha vissuto per ovvi motivi anagrafici, ma anche ai giovani tutto quello che sarà appunto la disco e la sua evoluzione. Tant'è che il venerdì sera vi sarà la serata di apertura curata da Italia New Wave, shared by Gucci che sarà dedicata ai New Guinea, che ovviamente tanti giovani conosceranno, con un progetto di videoproiezione curata da Giovanna Silva, che è una fotografa prestigiosa a livello internazionale che ha curato questo progetto anche nel 2014, la Biennale di Venezia. Avremo come ospite Ost Max, che è un giornalista tedesco, ma che parla benissimo l'italiano, di fama internazionale soprattutto che conosce molto bene il tema della musica. Il sabato sera, che sarà la serata sicuramente di punto, dal punto di vista degli ospiti internazionali che non hanno uguale ovviamente in questa edizione, è Kit Kriolens e Coconuts, che tutti conosceranno per le sue hit famosissime in tutto il mondo, per finire con una domenica non sicuramente da meno, perché avremo come apertura dei DJ prestigiosi di nicchia che hanno suonato alla baia degli angeli. Dopodiché avremo il gruppo Smoma, originari di Rimini, ma che sono conosciuti soprattutto all'estero per il loro re-edit della musica disco in chiave più lounge, aperitivo, molto cocktail. Avremo un talk il sabato sera molto importante sulla moda, perché da sempre moda e musica vanno di pari passo, che avremo come ospite Costantino della Gerardesca e Anna de Lorus, con cui disquisiremo su queste bellissime tematiche. Il tema di norme di sicurezza, ci saranno la garanzia di tutte le norme di sicurezza, quindi accesso limitato, avremo soltanto 200 posti in platea a sedere per ogni serata, l'accesso sarà possibile solo con Green Pass e quindi tutto si svolgerà come tutte le manifestazioni che abbiamo fatto quest'estate nel rispetto massimo delle norme Covid. Saranno tre serate importanti, 10, 11 e 12 di settembre, per questa settima edizione di Disco Diva.